Più di 115.000 minuti di ritardo accumulanti nel 2018, il 43% e più rispetto a quanto accadeva nel 2014, quasi 9 giorni di vita sottratti ai pendolari che viaggiano sulle linee ferroviarie dell'Emilia-Romagna. E la denuncia della consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, che si riferisce alle 9 linee ferroviarie gestite da FER e TPR in Emilia-Romagna. Sì, abbiamo voluto fare un approfondimento per quanto riguarda la situazione delle linee ferroviarie, quindi parliamo di FER, delle linee di stretta competenza regionale. Dai dati della regione emerge chiaramente che da quando c'è Bonaccini i ritardi ci sono e sono addirittura aumentati rispetto a prima. In alcune linee, per esempio, si parla di un aumento di addirittura del 45%. Quindi è chiaro che questa giunta non vuole investire su quello che è il trasporto pubblico locale e c'è un problema di attrattività delle linee che questo si ripercuote ovviamente sulla vita dei pendolari e non si vuole allo stesso modo investire su quello che è la qualità dell'area, che è un problema che è noto per la nostra regione e appunto sull'ambiente e sul trasporto pubblico. Tra l'altro io trovo abbastanza grave e responsabile che domani gli amministratori locali vengano a manifestare ancora una volta per avere più cemento e più strade, quando loro sono i primi che dovrebbero tutelare la salute pubblica. La peggiore è la Modena-Sassuolo, che è la più breve, sono 19 chilometri, è quella che soffre di più con un aumento del 240%. Abbiamo fatto un paragone tra 2018 e 2017, ma anche abbiamo voluto vedere prima della giunta Bonaccini, quindi 2014-2018, e lì risultano ritardi molto peggiorati rispetto a prima. Quindi questo è un dato significativo dal nostro punto di vista, proprio perché si continua a parlare solo e solamente di strade e di grandi infrastrutture, e non si vuole stradali e non si vuole investire evidentemente sulla mobilità sostenibile, questo a danno di tutti i pendolari, studenti, lavoratori che ogni giorno frequentano le nostre linee regionali.